Diciamolo in coro, oggi i preferiti del mese di? Gennaio, aprile Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina virtuale Oggi un altro video in collaborazione con i nostri amici Mauro e Antonio del canale 55, Winston 55 e Marta del canale Camartank Allora, noi vi proponiamo le nostre domande a cui daremo le nostre risposte Voi fateci sapere la vostra contro campana Vediamo se ci fate scoprire dei buonissimi prodotti da provare per il prossimo mese Cominciamo subito La scoperta o fissazione del mese Sicuramente per me sono gli tarallini, quelli della LIDAR Sì, sono della marca Certossa con due S Sono i semi di finocchio, esistono in due varianti Al peperoncino e i semi di finocchio Quelli ai semi di finocchio sono spettacolari Soprattutto per gli ingredienti Sono fatti con olio extravergine di olive E hanno soltanto buonissimi ingredienti Bene, proposti Ok, la ricetta del mese Per me la ricetta del mese è i muffin alla Nutella Quello simile McDonald's Ah, ok Per me la ricetta del mese è il sacchiebono Sacchiebono Sempre quello Ok, lui dice sempre Anche se questo mese non ne ha mangiato E invece per te? Per me invece le ricette del mese, quelle che mi sono più divertita a fare Sono le torte salate Ah, brava, brava Sì, è vero Abbiamo fatto anche tanti ciambelloni Plum cake Però più le torte rustiche Perché quelli li ho sempre fatti Mentre le torte rustiche le faccio meno spesso Quindi mi sono divertita a farle La verdura o frutta del mese? Per quanto riguarda la frutta Devo continuare a dire le arance Fino a quando ci saranno arance Mi batterò per loro Battiamoci per le arance Mentre io frutta direi fragole Che associo alle arance Con la spremuta di arancia Mentre come verdura Questo mese ci ho dato dentro Fermo Enzo Questo mese ci ho dato dentro coi carciofi Ne ho mangiati una quantità spropositata buonissimi La schifezza del mese Per me la schifezza del mese sono le briochine e le cornetti mele gatti Quelli al cioccolato Quelli al cioccolato o a marmellata sono più buoni? Quelli più buoni sono quelli secondo me all'albicocca Ah, va bene Dai almeno queste informazioni Diamo queste informazioni La mia schifezza del mese invece è stata una prova Non è una mia merendina preferita Anche se è una merendina molto buona E sono i cereale della... Che è una novità È una novità È una cosa uscita da poco È uscita da poco E sono buoni Contengono al solito Come è uscito potrebbe anche rientrare Contengono cose anche che non vanno bene Tipo olio di palma Però sono buone Devo essere sincera Fungono, fungono Allora L'acquisto del mese Magic bullet E mettiamo una foto veramente Senti ma è un acquisto buono o un acquisto flop? Allora Ancora devo ponderare L'ho usato solo una volta E mi ha lasciato così Però ancora non ve ne parlo Vediamo Era una vita che lo volevo L'ho visto da Casanova Con lo sconto Non è vero Tu ti sei fatto appindolare Dalle pubblicità Quelle americane Quello dello chef Tony Che fa Da vent'anni Eh lo so Lo so Quanti di voi sono stati fregati Dallo chef Tony Non lo so Però io Fatesi sapere Il magic bullet Ogni volta che c'era Abbiamo una petizione Basta Che c'erano quelli che frullavano Anche i piedi del tavolino Tra un po' Io guardavo Con i bicchieri Ho preso il magic bullet Che si chiama però Mixer bullet Vabbè ma è la stessa cosa Hanno cambiato il nome Ma è sempre quello E adesso poi Adesso che viene l'estate Voglio divertirmi A fare frullati Gelati senza latte Insomma Tutte quelle cose Che faccio sempre io Però Già pronte in tazza Per mangiarli Vi dirò Ah vi dicevo Che l'ho trovato Con lo sconto L'ho pagato 31 euro Quindi veramente pochissimo E ho voluto prenderlo Vi dirò presto com'è Ma per me è già L'acquisto del cuore del mese Prodotto assurdo del mese Per quanto mi riguarda Abbiamo comprato la Lidl Che c'era il periodo Della Della grecità Della maglia grecia Della grecità Che c'era una sorta di crema Una specie di nutella Semi di sesamo e cacao Una nutella e semi di sesamo e cacao Che devo dire È particolare Si sente molto il sesamo Però A me piace Mi piace Orribile Io ne ho assaggiato Solo un cucchiaino Appena ho letto Che c'era l'olio di palma L'ho messa via Perché tanto vale Se devo mangiare l'olio di palma E mangio la nutella Quella vera Ma a me non è piaciuto Il connubio semi di sesamo E cioccolata Proprio no Il mio prodotto assurdo Invece È il frutto della passione Il passion fruit L'avete mai mangiato Il passion fruit Che non è la parara No Forse per te Non lo so E comunque Anche quando Ognuno ha i suoi gusti Allora Il passion fruit È un frutto Che è cavo dentro Ed è fatto solamente Da dei granulini Gelatinosi Attaccati A una sorta di barbetta Al frutto Detta così È impressionante E la prima volta Aprirlo e mangiarlo È impressionante Uguale Ricorda un po' Il riccio Come conformazione Riccio di mare Riccio di mare Sì Però È buono Di che cosa è Assurdo Al mango Misto con un po' Di agrume Insomma È particolare Però buono Provatelo Assurdo Però come frutto Un po' assurdo Andiamo avanti La ricetta Che più desideriamo realizzare E che ancora Non abbiamo realizzato Allora Io oggi Ho scoperto Che esiste anche Un ciambellone Oltre a quello All'acqua Esiste anche Un ciambellone Alla Alla Coca Cola L'immancante Maledetto telefono La ricetta Invece che io Adesso Desidero fare Adesso che è arrivata La primavera Sono I frullati Particolari Per la colazione Per l'estate Soprattutto E i panini Per sotto l'ombrellone Una serie di panini Ma i panini Con l'ombrellino Però No Con la panderina Una serie di panini Che siano Un pasto unico Da portarsi Nutriente Che abbia tutti i nutrienti Al proprio interno Da portarsi sotto l'ombrellone Che forte Un panino col frigorifero No Per non saltare il pasto Per non sbilanciare l'alimentazione Ma che comunque Fungano da pasto Ci sostengono Durante la giornata di mare E che siano anche buoni Che ne pensate di questa idea? Pronto per il frigorifero Portati Poi Allora Il cibo straniero del mese Non è proprio un cibo straniero O meglio Sì È un cibo straniero Però lo abbiamo preso alla Lidl Della Eridanus Questi qua Sono questi biscottini E sono stati elettici Il cibo straniero top del mese Perché sono due tipi di biscottini Con ingredienti fantastici Li abbiamo preso alla Lidl A poco più di un euro a pacchettino Ci sono i Fruit Roll Che sono con fichi e uva E ve li facciamo vedere E sono così Sono dei mini strudel Vedete E sono buonissimi Questi ricordano moltissimo I cuori di mela Prego No no grazie Non ne voglio provare E gli ingredienti di questo Ve li leggo Sono talmente buoni Che sono Farina di frumento Fichi Zucchero Olio di semi di girasole Succo di arancia Olio extravergine di oliva Miele di timo Uvetta Sesamo Agente lievitante Cannella e vaniglia Super Direi che è buono Buono Per essere prodotti industriali E poi questi Che invece sono belli coliacei Belli duri Ma buonissimi E buonissimi Da inzuppare Sia nel latte Che nel caffè E dentro ci sono Perché tengono Non diventano pappetta E ci sono Dentro c'è Farina di frumento integrale Fiocchi d'avena Zucchero Burro 4% di olio extravergine di oliva Nocciole Miele di timo Latte intero Sale da cucina E agente lievitante Che è il carbonato di sodio Voilà Anche questi Sono molto molto buoni Se li trovate alla Lider Perché questi di solito rimangono Perché hanno un po' La confezione Già un pochettino Sfigatella Sembrano Non lo so Non vengono Il packaging È fatto da un cieco Il packaging Di questi greci Non è fantastico Però Proprio per questo Provateli E poi mi avete ragione Prodotto Apri e gusta Sì Penso che le lenticchie Quella bio È vero Al bio ho comprato Le barattoli di lenticchie E le ho usate molto Specialmente a cena Molto spesso Questo mese Sono tornata tardissimo E abbiamo risolto così Aggiungendo un battutino di carote E sono venute buonissime Buonissime Mentre L'elettrodomestico del mese Visto in quasi tutti i video Di 2Q1K Serve per me Da sempre Diciamo che L'elettrodomestico della vita Quello che è più Essenziale di tutti E sono Le fruste elettriche Le fruste elettriche Sono fantastiche Ve le consiglio Cioè Sono un elettrodomestico Che serve Enormemente Sì Pratico Non occupa troppo spazio Più della planetaria Più del mixer Più di qualunque cosa Le fruste elettriche Basta Abbiamo risvolto Abbiamo risposto A tutte le nostre domande Adesso corriamo A guardare i video Di Mauro Antonio Nel canale 55 Wiston 55 Di Marta Nel canale Camartan Vi suggeriamo anche voi Di guardarle Li trovate sempre Tra le schede informative E qua sotto Nel box informazioni E noi ci rivediamo presto Sulle vostre tavole Ciao Ciao Ciao